Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è a cura del pastore Marco Di Pasquale. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Beckwith, benvenuti e benvenute a questo culto di adorazione, di lode al Signore e di ascolto e condivisione della sua parola. Invochiamo la sua presenza in mezzo a noi e in noi. La nostra gioia è in Dio, nostro Padre, che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Dice il Salmo 118 Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò, tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Raccogliamoci un istante in preghiera. Dio Onnipotente, che nella tua grande bontà vieni incontro ai bisogni dei tuoi figli e delle tue figlie. Donaci il tuo Spirito Santo affinché ti siamo riconoscenti e grati e possiamo celebrarti come l'unico nostro Dio. Insegnaci, Signore, a benedire e a essere strumenti di benedizione. Insegnaci a vincere il male con il bene. Insegnaci a perdonare. Signore, perdona le nostre mancanze, le nostre debolezze e dacci la grazia di poter servirti ogni giorno in novità di vita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. La paura c'è stata, una luce, non è questa pace al mar. Ma tu sei la mia, la verità, la vita in santità. Signore, Gesù Cristo, non è questa pace al mar. Ma tu sei la mia, 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 la mia. Signore, Gesù Cristo, non è questa pace al mar. Ma tu sei la mia, 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 Grazie a tutti. Ascoltiamo i passi biblici scelti per oggi. Leggo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 5 i versetti da 17 a 20. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico finché non siano passati il cielo e la terra neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei non entrerete affatto nel regno dei cieli. E dal libro del profeta Amos al capitolo 5 leggo i versetti da 21 a 27. Io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. Se mi offrite i vostri olocausti e le vostre offerte, io non le gradisco e non tengo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di riconoscenza. Allontana da me il rumore dei tuoi canti. Non voglio più sentire il suono delle tue cetre. Scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. O casa di Israele, mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto durante i quarant'anni? Ora prendete sulle spalle il baldacchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini, la stella dei vostri dei che vi siete fatti, e io vi farò andare in esilio oltre Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti. Signore, la tua parola è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Nel 1936 l'antifascista Klaus Mann, figlio maggiore del grandissimo scrittore tedesco Thomas Mann, scrive un romanzo che farà scalpore a lungo, soprattutto quando, dopo la caduta del nazismo, venne pubblicato anche in Germania. Mephisto, Mephistofele, romanzo di una carriera. Lo scrittore vi descrive il mondo del teatro tedesco dalla fine degli anni venti del novecento fino al 1936. Vi si racconta come il protagonista, un attore tanto versatile quanto privo di scrupoli, passi dall'ostentata adesione a un ambiente politicamente connotato a sinistra, via via fino a diventare l'attore di spicco del programma culturale nazista. Si tratta di un commediante, come più volte affermato nel romanzo. In greco si direbbe un ipocrita, di uno che non vive ma recita in continuazione, anche fuori del palcoscenico. Uno che fa dell'atteggiamento opportuno, del tono di voce appropriato, della posa studiata, del gesto, la sola modalità di rapporto con gli altri e con se stesso. Uno che fa dell'ascesa sociale, fine a se stessa, il solo metro per misurare la riuscita o meno della propria vita. Ma anche gli altri personaggi del romanzo, che definiscono il protagonista un commediante, sono essi stessi degli attori, sebbene meno efficaci di lui. L'autore del romanzo vuol dirci che la mancanza di scrupoli, la finzione a fini opportunistici, la teatralità, non riguardavano soltanto il protagonista e neppure soltanto una parte politica in questo romanzo, ma erano diventate l'atmosfera stessa che si respirava all'epoca, il modo di vivere dell'intera società. L'atteggiamento da teatranti, da commedianti, era diventato quello di un'intera nazione. Qualcosa di simile era avvenuto nel Regno di Israele, ai tempi di Geroboamo II. L'epoca di Geroboamo fu un'epoca di relativa calma, pace e prosperità per Israele. Geroboamo aveva restituito al Regno di Israele dimensioni ragguardevoli e per una serie di concomitanze storiche le grandi potenze circostanti, Egitto e Siria, non erano in quel momento in grado di interferire negli affari interni di Israele. Tuttavia, ci fa sapere Amos, a questa prosperità non corrispondeva una maturazione della società. La pace all'esterno diventava la scusa per coprire i soprusi all'interno. Nei tribunali la giustizia veniva piegata agli interessi dei ricchi e dei potenti, mentre al povero, che non aveva di che pagare per orientare una decisione a suo vantaggio, non era nemmeno concessa udienza. Le procedure giudiziarie, invece di assicurare giustizia, tendevano a diventare una farsa, una messa in scena, cosicché i giudici ottenessero il favore dei potenti e i potenti il favore dei giudici. Persino il culto non era più il momento in cui il popolo si ritrovava per lodare Dio e ascoltare la parola, ma era diventato una cerimonia fine a se stessa e la partecipazione a esso era l'occasione per pavoneggiarsi e consolidare la propria ascesa sociale per intrecciare rapporti di favore con i potenti dell'epoca. La religione era diventata una faccenda di assemblee solenni, feste sontuose, sacrifici, canti e nulla più. Era diventata teatralità, ma era ormai senza anima. Contro questo andazzo, il profeta Amos prende posizione in nome di Dio. Il passo che abbiamo letto è inserito a conclusione di un capitolo nel quale il profeta se la prende con la distorsione della giustizia in Israele. Voi cambiate il diritto in veleno e gettate a terra la giustizia, afferma pochi versetti prima. Adesso la parola del Signore si rivolge contro il modo di celebrare i culti in Israele. La critica non è rivolta a cerimonie estrane a quelle comandate da Dio, né a una cattiva esecuzione di queste. Il passo di Amos elenca qui sette diversi aspetti del culto di Israele che vengono tutti ugualmente respinti da Dio. Parla delle feste, che sono le tre grandi celebrazioni annuali. Parla delle assemblee solenni, cioè le riunioni dei fedeli. Parla di olocausti, di offerte e di sacrifici di riconoscenza. Parla infine di rumore e di suono dato dalle cetre, dai canti e in generale dal trambusto prodotto dalle cerimonie. Questa è una descrizione sintetica ma esatta di tutti gli aspetti salienti della religiosità israelitica per come era comandata nei libri della legge. Non si tratta affatto di idolatria, di cerimonie estranee. Anzi, si parla qui conformemente alle indicazioni della scrittura. Il fatto che Amos indichi proprio sette elementi dice che si intende l'interezza della religiosità israelitica. Sette è il numero della perfezione. Non manca nulla. Amos sta dicendo che all'epoca i culti si svolgevano formalmente proprio come indicato dalla legge di Mosè con tutti i crismi. eppure Dio parla di essi dicendo io odio, disprezzo le vostre feste e prosegue poi con quattro espressioni negative. Non prendo piacere che letteralmente significa non mi piace l'odore non gradisco non tengo conto cioè che letteralmente significa non volgerò lo sguardo non voglio più sentire cioè non ascolterò. Ecco Dio non gradisce l'odore né la vista e neppure il suono delle feste e delle cerimonie religiose in Israele benché vengano correttamente eseguite. È un rifiuto completo quasi un rifiuto fisico è come se Dio stesse dicendo i vostri atti religiosi benché eseguiti alla perfezione mi fanno schifo. Accade che persino quanto è comandato dalla legge di Mosè benché correttamente eseguito diventi in certe situazioni l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere l'esatto contrario della volontà di Dio. Persino esso può diventare un idolo. Laddove la religione diventa un modo per coprire una sostanziale mancanza di giustizia e di fedeltà laddove viene fatta servire a giustificare l'oppressione di alcuni su altri laddove diventa soltanto il palcoscenico del potere come accade in ogni regime totalitario antico o moderno allora essa cessa di essere un mezzo per rendere grazie a Dio e ascoltarne la parola e diventa un idolo qualcosa che pur pretendendo di essere l'immagine del sacro non ha più nulla a che fare con Dio. Ciò che Dio vuole ciò che Dio comanda e ce lo dice Gesù nel passo di Matteo che abbiamo letto e che il diritto scorra come l'acqua e la giustizia come un torrente perenne questa è un'immagine bellissima incisiva che richiama alla mente la fertilità questa immagine di Amos ci mostra che il diritto e la giustizia non sono questa cosa grigia e statica che spesso ci immaginiamo sono invece qualcosa di vivo portano fecondità al popolo come un fiume rende fertile la terra ma al tempo stesso l'immagine suggerisce anche che saranno il diritto e la giustizia quelli di Dio a spazzare via tutta la religiosità di cartapesta alla quale si dedica Israele come un torrente impetuoso sradica e porta via tutto ciò che non è ben radicato nel giusto terreno il capitolo si conclude due versetti dopo quando il Signore dice ora prendete sulle spalle il baldacchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini la stella dei vostri dei che vi siete fatti e io vi farò andare in esilio oltre Damasco sembra l'ordine di sbaraccare un teatro come se Dio stesse dicendo al popolo di Israele su prendete tutte le vostre decorazioni di scena e andatevene in esilio il pericolo verso cui Amos ci mette in guardia è sempre in agguato in qualsiasi comunità o chiesa grande o piccola il rischio di fare della chiesa un luogo di potere personale a qualsiasi livello di usarla per la propria affermazione sociale invece che per la lode a Dio e la condivisione della sua parola insomma il rischio di trasformare la chiesa in palcoscenico e quindi di non riuscire più a essere altro che dei commedianti oppure pubblico chiamato ad applaudire è qualcosa che facilmente si insinua tanto nella chiesa quanto nella società questo fa sì che poi ci si senta legittimati a calpestare il diritto e la giustizia a non ascoltare i deboli quando la loro presenza rende meno scintillante il nostro spettacolo e però a servirsi di loro quando possono tornarci utili ecco da tutto questo Dio ci mette in guardia ponendoci davanti agli occhi la croce di suo figlio Gesù Cristo quel giudizio di fronte al quale non è più possibile recitare ma non si può che umiliarsi e chiedere perdono soltanto soltanto allora l'acqua del diritto e il torrente della giustizia ricominciano a scorrere anche per noi facendo di noi un fertile campo nel quale Dio può far germogliare frutti di giustizia di verità e di misericordia quali ha preparato per noi e per l'umanità intera voglia il Signore lavarci con l'acqua della sua giustizia toglierci di dosso il trucco e il cerone con i quali ci siamo coperti il viso e restituirci alla nostra umanità quella di persone amate da Dio e che vivono per testimoniare di questo amore Amen e che vivono e che vivono e che vivono il mio dolore e l'aspetto la parola che rigenera e consola ma tu darmi all'omini chiede dei nemici tuoi lo so a che vale la tua fede il tuo Dio ti lascia al sol ed il lupio notte di il me penetra così che esiste più non giova al torrente della prova e non giova il mio cuore non dubitare ma confida nel tuore e sembra più tardare non temere regno e con te l'ora attesa mi verrà che vittoria ti darà e all'indio tre volte santo scioglierai fino che un canto ci raccogliamo ora in una preghiera di intercessione che concluderemo poi con le parole che ci ha insegnato Gesù le parole del Padre nostro Signore ti benediciamo perché abbiamo potuto ascoltare la tua parola abbiamo davanti agli occhi un mondo affamato e sovrappopolato un mondo di caos e di paura di sommosse e di crimini di ingiustizie e di vittime aiutaci a sentire tutti i problemi che travagliano l'essere umano come nostri problemi e dacci di impegnarci in modo da aiutare a rimuovere le cause profonde e radicali della sofferenza nel mondo ti preghiamo per coloro che soffrono per i malati per gli indifesi per gli sfruttati per coloro che hanno perso una persona cara per quelli che hanno chiesto le nostre preghiere per quelli le cui sofferenze tu solo conosci per tutti gli uomini e le donne nostri fratelli e nostre sorelle da a ognuno e a ognuna di loro la tua forza tutto ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo benedetto in eterno il quale ci ha insegnato a pregarti così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal male poiché tuoi sono il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen e ora invochiamo e riceviamo la benedizione del Signore la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio il Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi il Signore ci conservi nella sua grazia ci dia di essere allegri nella speranza pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera andiamo in pace e recchiamo in parole e in opere il messaggio della speranza che è in Cristo Gesù India Gesù Cristo Gesù Cristo Ad prison prima sono tu Grazie.